amiche a casa siete pronte sto per parlarvi di una novità straordinaria vi piace il mio gioiello questo non è solo un gioiello qui nello screen racchiusa una fragranza unica un concetto nuovo innovativo di indossare qualcosa di speciale non voglio raccontarvi di più vorrei che vedeste con me questo video l'ispirazione può manifestarsi in forme diverse in questo caso un regalo di compleanno mio marito mi ha regalato un paio di orecchini vintage che si aprivano per rivelare una gemma all'interno come un tesoro nascosto improvvisamente ho pensato e se quel tesoro fosse un profumo è qualcosa che non avevo mai visto prima gioielli che contengono un profumo io sono lisa hoffman e sono emozionata di potervi presentare la mia collezione di gioielli profumati un profumo da indossare in un modo totalmente nuovo come un braccialetto o insieme comunque tu lo indossi indosserai un profumo voglio ringraziare mio marito per il regalo che ha dato vita a questa ispirazione e vi abbiamo svelato l'ideatrice del brand sicuramente avete già riconosciuto oltre a lisa hoffman dustin hoffman suo marito per noi è un piacere avere francesca randazzo ambasciatrice del brand ciao benvenuta per me grazie amica e collaboratrice di lisa hoffman esattamente un'amicizia che poi è sfociata in una collaborazione che diciamo ci vede impiegate lei sicuramente dalla parte della della fragranza del profumo io più quello del gioiello del bijou che appunto è ormai tratto nel quale lavoro da 30 anni lisa è una donna incredibilmente dinamica molto dolce ma anche davvero determinata sì noi siamo veramente felici che lisa hoffman abbia scelto hs 24 italia come esclusivista per i suoi gioielli profumati un modo nuovo un concetto che mi ha assolutamente rapito devo dire qui state vedendo le fantastiche opportunità di acquisto con un'offerta lampo tra l'altro di cui parleremo tra poco guardate i colori il charms straordinario che nasconde la fragranza 44 euro 99 centesimi per la prima volta i gioielli profumati e le fragranze esclusive di lisa hoffman a 44 euro 99 centesimi a fronte dei 59 99 poi ne parleremo un regalo unico da fare per le nostre amiche un regalo un'emozione da indossare veramente speciale guarda davvero quello che noi abbiamo già chiamato scrigno in effetti è contiene un tesoro contiene un profumo che in questo caso e questa è la grandissima novità che ha introdotto lisa hoffman è solido vedi queste perline sono perline che derivano dalla farina di legno che vengono imbevute delle fragranze che le fragranze stesse poi sono proprietà di lisa le ha creati lei grazie a maestri profumieri che l'hanno proprio tradotte letteralmente le fragranze che noi andiamo a presentare e vedi questo scrigno guarda è proprio si chiude è costruito con delle parti vedi aperte chiuse e sentiamo lo scatto praticamente noi lo chiudiamo e possiamo indossarlo con facilità perché vi andremo a vedere è anche un bracciale elastico che quindi non ha problemi di misura di polso ma soprattutto racchiude questa fragranza che ci avvolge e ci accompagna costantemente tutta la giornata perché qui c'è un segreto nel segreto questa fragranza è un bouquet che ha scelto lisa hoffman tu mi dicevi traducendolo da un'idea di donna passionale donna calda femminile una donna che ama proprio essere femmina la begonia brasiliana il cuore un po di questo purpurri di questo infatti hai detto benissimo abbiamo infatti tre fragranze qui che lisa ha portato per noi in italia la prima che andiamo a vedere è proprio la begonia brasiliana che si abbina al bracciali che vediamo questi bracciali fammi dire proprio pochissime cose veloci perché logicamente il bracciale stesso è un oggetto molto bello di desiderio e per la prima volta pensa possiamo avere il bracciale e il profumo nello stesso nello stesso oggetto nello stesso oggetto abbiamo tutte sono pietre naturali abbiamo quarsite abbiamo pietra dolomite abbiamo quarzo rosa quarsite nevi occhio di tigre e quarsite color anche se lo chiamiamo corallo io direi più un color melograno un rosa un po più tendente quasi all'alabastro sono tutti con il proprio charme in colorazioni diverse vediamo appunto vanno dal quello che sto toccando io l'argento il dorato oppure il rosè a seconda della pietra e poi ognuno di questi ha proprio la brand bello stampato lh una targhetta molto bellina che ecco denota proprio la originalità un prodotto esclusivo per hse fatto da lisa hoffman e praticamente per la prima volta vediamo una cosa del genere una cosa un concetto unico andiamo a vedere come le nostre signore diranno ma insomma dove abbiamo capito come funziona funziona abbiamo delle perline profumate che vi verranno giustamente spedite insieme all'oggetto che voi acquisterete in questo caso i bracciali che contengono queste perline queste perline vengono prese dalla bottiglietta vengono inserite cinque sei di solito nel charm e vengono quindi il charm abbiamo visto si chiude proprio con un bel click che denota anche la sicurezza della tenuta che quindi non rischiamo di perderlo poi cosa facciamo nel frattempo vi posso garantire che avrete fatto questa operazione di annusare le vostre perline non so quante volte vero vale si è proprio sono fragranze uniche esclusive che non avrà nessun'altra donna tranne voi perché la scelta elisa hoffman esatto ed è un concetto nuovo di indossarli perché perché questo è un profumo sempre con la stessa persistenza questo è un profumo che non vira a seconda della pelle del ph della pelle delle ore di utilizzo perché sappiamo bene che quando mettiamo un profumo la mattina è di una certa intensità poi magari durante il corso della giornata quell'idea di di donna di femminilità o qualsiasi sia chiaramente poi ne parleremo perché ci sono diverse fragranze va a perdersi voi avete un refill per sei mesi di profumo sei mesi pensa vuol dire che ogni volta che noi carichiamo il nostro charme il nostro stringo useremo 5 6 perline e dureranno queste per un mese ma la bottiglietta ne contiene tante per durare ben sei mesi questo è un regalo esclusivo è qualcosa un gioiello che nasconde un profumo ed è un prezzo straordinario c'è un pochino di coda a meno di un minuto state con noi perché l'attesa è gratuita ma sarete le prime e le uniche in italia ad avere un gioiello profumato firmato da lisa hoffman vi arriva con una bellissima confezione se state pensando a un regalo di pasqua per colpire la persona che lo riceve ecco questo è il vostro regalo esclusivo a 44 euro 99 centesimi quindi il gioiello lo scrigno la passione la begonia brasiliana che racconta un po il concetto che lisa hoffman insieme ai profumieri più importanti al mondo i fra i nasi francesi ha realizzato per noi un tipo di donna quindi che ha una forte personalità no dunque sicuramente sai noi pensiamo a lisa hoffman principalmente e sicuramente prima di questo lancio come moglie di dustin hoffman e sappiamo che dustin hoffman ha vinto molti premi ma quello che non sappiamo probabilmente ancora ma per fortuna adesso lo stiamo imparando è che lisa ha vinto molti premi anche lei nel mondo delle delle fragranze e questa è una delle più amate delle più vincenti brasilia begonia begonia brasiliana e che ha molti toni all'interno è una delle mie preferite devo dirti che mi piacciono tutte e tre poi ne parleremo ingredienti vedi sono misti abbiamo come diciamo una rapsodia di toni di di profumi insieme che sono ambra muschiata il la begonia che è proprio quella che diciamo ha ispirato anche il nome il limone quindi energizzante il frankincenzo anche una è abbinata alla vaniglia una vaniglia lussuosa non troppo stucchevole il tutto si chiama begonia brasiliana è l'idea che lisa hoffman ha voluto tradurre proprio per renderci passionali femminili intense 44 ore 99 centesimi per scegliere il vostro bracciale il vostro gioiello preferito quindi abbiamo diverse tonalità l'occhio di tigre è il più limitato l'occhio di tigre sai che l'occhio di tigre ha anche un sai che ogni pietra i quarzi soprattutto hanno anche delle proprietà quindi in questi bracciali non soltanto noi troviamo la proprietà della fragranza che abbiamo detto in questo senso è una fragranza che gioca un po sulla tone della nostra femminilità del nostro essere donna della nostra passione ma anche la pietra stessa è ad esempio l'occhio di tigre ha un diciamo una caratteristica di purificazione di determinazione sono tutte pietre naturali ciascuna di questa comunque ha accettate quindi anche questo è bellissimo questo aggiunta e l'elastico che li rende indossabili senza nessun problema non c'è problema per tutte le misure per voi per qualsiasi polso per essere speciali e uniche potete scegliere oltre alla begonia brasiliana lisa hoffman ha selezionato per l'italia le sue fragranze più di punta vincenti quindi abbiamo l'orchidea del madagascar sicuramente una fragranza floreale che ci racconta di bellezza una bellezza pura con delle note dolci romanticismo comunque un'idea di donna femminile ma con dei toni delicati e poi possiamo anche scegliere di acquistare l'altra fragranza quella più frizzante che ci porta energie positività perciò una volta che voi avete acquistato il vostro gioiello con il refill per sei mesi perché vi arriva insieme a 44 ore 99 centesimi potete scegliere di portarne più di uno e andiamo a scoprire qual è la durata tra l'altro perché dura sei mesi infatti ci sono talmente cose belle nuove da dire valentina che rischiamo di doverle dire tutte insieme dunque la durata la durata devi sapere è fatta proprio da cosa è data data dalla intensità della fragranza nelle profumi nell'industria del profumiera di solito troviamo un 10 12 per cento quelli di lisa sono tutte al 30 per cento più del doppio vuol dire quindi automaticamente capiamo che la durata delle nostre perline indossate dentro il char sarà molto molto più lunga ogni ricarica dura un mese ed ogni boccettina che riceviamo addirittura sei mesi sei pensa quanti profumi dovremo acquistare e quanti soldi spendere ma certo mesi tra l'altro è comodissimo anche il vostro profumo quindi il vostro racconto della personalità o dell'umore che viene con voi che viaggia con voi senza nessun problema al vostro polso nella borsetta in valigia perché un profumo è proprio racconto di noi del nostro essere anche in quella giornata in un certo modo per esempio magari una mattina ci sentiamo più passionale una volta più frizzanti o ci sono anche quelle occasioni in cui il profumo magari non vorremmo averlo sulla pelle andiamo in palestra io tolgo il mio bracciale lisa hofman la fragranza intanto la tengo in borsa nell'armadietto e faccio la mia ginnastica quando esco dalla mia lezione di pilates vi faccio un esempio io faccio la doccia e rindosso con la stessa intensità il mio bracciale vi posso assicurare che tutti mi chiederanno perché la fragranza è sempre presente anche alle otto di sera se siamo usciti la mattina alle sette alle otto di sera quindi dopo una giornata intera fare per credere davvero la stessa fragranza è un concetto sentiamo proprio nuovo guarda dunque innanzitutto poi sai cos'è che questo profumo arriva davvero in maniera nitida non esageratamente forte capito quindi è costante dell'emanazione tanto è vero che anche guarda una nipotina che la prima volta che mi sono indossata con uno di questi bracciali mi ha detto sia ma ai cosa c'è questo profumo da dove viene quindi è proprio un una una co una nota nostra particolare che arriva a chi ci sta vicino e che ci fa anche ricordare oltre che far sentire noi stessi abbiamo detto in questo caso con la begonia brasiliana particolarmente come dire sensuali quando vogliamo un po essere conquistatrici dai assolutamente sì io li adoro mi piace portarli insieme voi sapete che io ho i miei bracciali i miei gioielli lisa hoffman beauty con queste fragranze meravigliose questo è il vostro regalo il vostro nuovo di pasqua il vostro regalo per essere uniche e per la prima volta il bracciale con la fragranza esclusiva di lisa hoffman a questo prezzo 44 euro 99 centesimi sei mesi di intensità di profumo che non vira che non cambia con la pelle che non è a contatto con la pelle sei mesi di ricarica è un bracciale elastico fatto con pietre naturali perciò adatto a tutti i polsi però veramente un'occasione unica anche per provare a casa 30 giorni qualcosa di esclusivo che in italia vi propone soltanto hse 24 44 99 1 3 2 9 6 4 il codice la cosa stupenda che potete scegliere anche altre fragranze per esempio questa è la gar giapponese è sempre il purpurì che proprio lisa hoffman ha scelto per noi per raccontare un concetto di donna positiva energica fresca frizzante perciò completamente come vedete i toni sono differenti il cuore di questa dell'agare è completamente diverso e la fragranza dell'agare la troveremo degli orecchini che vedremo tra poco a 59 99 sempre con un'offerta lampo perciò sempre con questo concetto dello scrigno meraviglioso che va proprio a racchiudere una fragranza unica ed esclusiva per sentirci sempre speciali perché il profumo ci accompagna tutta la giornata quando scende l'intensità quando il profumo comincia a non sentirsi più e questo accade spesso dopo poche ore manca qualcosa no perciò abbiamo la libertà di indossare un profumo che sproggiona la sua vacanza la sua fragranza in qualsiasi momento della giornata sempre intenso questa l'altra fragranza esclusiva scelta dalle isa hoffmann per hs 24 italia ovvero l'orchidea del madagascar quindi quella che parla di femminilità la fragranza più floreale pura con note dolci la fragranza dell'amore della donna romantica della donna che sogna e tra l'altro sono tutte acquistabili separatamente nel senso che dopo che avete scelto il vostro gioiello che sia il bracciale orecchino della collana la fragranza poi la scegliete voi quando e come indossarla infatti è proprio questa è un'altra di quelle cose davvero molto belle interessanti perché non solo noi avremo la nostra fragranza in base all'oggetto che scegliamo ma possiamo scegliere di acquistarle separatamente quindi senza dover acquistare un altro diciamo bracciale o gioiello o comunque orecchino ma soltanto la bottiglietta quindi possiamo davvero con lo stesso gioiello provare e sperimentare la nostra tutte e tre le nostre fragranze allora andiamo a vedere queste meravigliose collane disponibilità limitatissima un risparmio di 20 euro per avere questo gioiello esclusivo lisa hoffmann un regalo da farci veramente perché c'è molto di più di un concetto di un solo gioiello e lo vediamo francesca sono bellissime queste collane lavorate proprio con una grandissima attenzione tecnicamente qualitativamente sono davvero impeccabili e abbiamo detto che per la prima volta noi non acquistiamo esclusivamente un gioiello che poi alla fine quello che noi vediamo a casa è quello no il messaggio forse più veloce da ricepire ma attenzione quello che invece è proprio innovativo è un'esperienza completamente diversa è il fatto che all'interno abbiamo una fragranza un profumo resistente che ci accompagna non solo tutta la giornata ma anche addirittura per sei mesi senza dovere comprarne un altro questa è una fragranza meravigliosa per una donna che vuole essere anche romantica perché noi donne siamo sempre piene di sfaccettature la fragranza è contenuta all'interno in queste perline per cui se ci sentiamo delle donne che hanno voglia di romanticismo di amore di purezza di coccole proprio questa fragranza è il purpurri che racchiude questo concetto questa idea che lisa hoffmann ha creato con i nasi più importanti al mondo assolutamente sai lei ha quindi deciso che nella in quella che lei ha chiamato orchidea del magascar ha voluto usare la mimosa pudica la peonia rosa il gelsomino quindi già qui abbiamo un'indicazione il gelsomino ha un che di un fiore comunque che noi conosciamo che noi amiamo però è attutito appunto anche dall'orchidea del magascar che non ha niente a che vedere con l'orchidea che noi potremmo avere anche a casa quindi non non pensiamo che il profumo della orchidea del magascar sia quello che poi alla fine non esiste dell'orchidea assolutamente è un purpurino incredibile inventato e creato da lisa da inserire all'interno del nostro gioiello profumo lisa hoffmann secondo me ha creato un concetto unico e innovativo che rende la donna libera di indossare il suo profumo preferito la sua fragranza esclusiva tutto il giorno con la stessa intensità per giorni facendosi avvolgere proprio dalle sue emozioni più intime scegliete la variante che più vi piace perché come vedete abbiamo il quarzo che è limitato abbiamo il quarzo rosa con la catena rosina che è quella che vediamo in questo momento poi abbiamo il dolomite il blu il dolomite è quello bianco che io appunto sto indossando anche il bracciale con la placatura gialla oro giallo e poi abbiamo il nevi che sono queste sfere di quarzite blu molto scure color nevi con la placatura argento silver sono bellissime ma il nostro stock sta scendendo velocemente 59 99 per essere le prime le uniche a poter raccontare un concetto nuovo di vestire di indossare una fragranza sempre tutto il giorno ideata da lisa hoffmann ha avuto un'idea che è nata da anche un concetto d'amore perché comunque da un regalo dall'idea di una donna libera il regalo questo orecchino prezioso che conteneva una gemma e lei ha pensato ma perché questo 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 viso tesoro non potrebbe essere un profumo e da lì ha iniziato questa favolosa storia di creare proprio il suo brand di fase off man con la storia delle nuove profumazioni contenuta all'interno di un gioiello che vediamo proprio qui all'interno anche di queste collane tra l'altro sai cosa forse fammi dire anche che queste collane la lunghezza è sì circa 62 centimetri più 7 ecco soli diciamo che arriviamo circa 70 centimetri ma la indosso possiamo quindi regolarle anche a seconda del nostro scollo me certo molto femminile questa lunghezza e quindi abbiamo e vedi addirittura di nuovo inseriamo le nostre perline chiudiamo click e possiamo indossare questa collana che proprio muovendosi con noi ci aiuterà ancora più a a spregionare sì a vivere questo profumo e anche le persone che saranno vicino a voi lo sentiranno sempre con la stessa intensità perché un profumo racconta la nostra personalità in questo caso con la collana oltre 200 di voi tra l'altro sul nostro sito a scoprire proprio le nostre proposte con la collana vi arriva il quello che noi chiamiamo il refill ovvero la scorta di sei mesi per questo profumo straordinario quindi la libertà di indossare il nostro profumo preferito che si sprigiona con la sua fragranza da un gioiello sempre con la stessa intensità per la prima volta a questo prezzo 59 99 ne rimangono poco più di 50 sono divise nelle tre varianti vi arriva in una confezione lussuosissima il sacchettino la scatola 132 996 il codice abbiamo aperto il nostro show parlandovi proprio dei bracciali bracciali amatissimi come avete visto noi ost spesso le indossiamo e li abbiamo acquistati li abbiamo amati immediatamente ecco diverse varianti sono tutte pietre naturali e all'interno dello scrigno lavorato quasi come fosse una filigrana e le fragranze uniche la fragranza questa per la donna più passionale più intensa tante limitazioni è un prezzo che non abbiamo mai visto 44 euro 99 centesimi per provare a casa 30 giorni anche la novità in italia di dei gioielli profumati di lisa hoffman perché lisa hoffman ha scelto hs 24 italia per chiaramente far raccontare le sue creazioni 1 3 2 9 6 4 il codice la cosa bella qual è che poi la fragranza che andrete a mettere nello scrigno sarete voi a sceglierla di volta in volta magari vi piacerà ripercorrere già la fragranza che avete scelto oppure andrete magari a provare l'orchidea del madagascar quella che abbiamo detto è dedicata sicuramente a una donna che è più romantica più sognatrice sai lisa mi spiegava no perché anche io giustamente quando l'ho conosciuta e ho iniziato a interessarmi e a imparare anche un po quello che era un mondo a me sconosciuto prima quello della fragranza quindi mi dava degli esempi mi diceva immaginati del lino una donna capito vestita con il cappello magari in spiaggia ma non è la mano cercavamo di creare e è questo poi bello perché davvero rappresenta una parte di noi oltre che avere una profumazione buonissima e poi unica esclusiva che anche solo la curiosità di vedere come funziona un bracciale profumato una collana profumato o gli orecchini che danzano con noi e sprigionano questa fragranza e ci avvolgono e ci fanno davvero sentire diversi a proposito degli orecchini piacciono tantissimo perché poi appoggiano proprio diciamo questo scrigno veramente dietro l'orecchio nel lobo non senza appoggiarsi però lo fanno partire e sprigionare da lì il punto classico del profumo vi piacciono tantissimo arrivano con la profumazione di agar giapponese a 59 99 con 10 euro risparmiati 132979 è il codice scopriamo veramente un mondo nuovo esclusivo e pensiamo anche il profumo è il regalo per eccellenza perché quando regaliamo un profumo regaliamo un ricordo un riproporsi di un'emozione dell'idea di quella persona che ce l'ha donato perciò è un regalo veramente speciale e qui andiamo a vedere wow che prezzo che c'è per questo bracciale guardate questa variante io la ha visto le matite le matite il bracciale di matite costa 49 99 a fronte di un valore di 79 99 e guarda le matite sai che anche qui stiamo parlando di una pietra naturale ed è l'unica che ha questi riflessi metallici ed è sfaccettata in maniera superba guardate qui non abbiamo delle sfere rotonde abbiamo delle sfere a rondella ma guarda la sfaccettatura è davvero incredibile ha un fascino questo bracciale che tra l'altro vediamo sia con la finitura in giallo in placatura gialla che in bianco e quindi davvero abbiamo la possibilità di scegliere e cosa abbiamo insieme avremo la profumazione dell'orchidea madagascar abbiamo detto quindi la profumazione anche questa molto romantica per una donna che ama forse toni più floreali come la mimosa pudica la peonia e il gelsomino e l'orchidea del madagascar e poi un'altra caratteristica di cui abbiamo parlato e che è presente anche in tutti i nostri bracciali l'elastico molto robusto e ben fatto che ci permette di indossarlo senza nessuna limitazione di misura di polso certo è anche un regalo perfetto no assolutamente sì perché poi non solo non devi neanche preoccuparti di come dire della presentazione abbiamo una scatola molto elegante si col nome di lisa abbiamo un sacchetto di organza dove io di solito poi potremmo utilizzarlo anche per altre cose esempio trasportare il nostro bracciale in borsa e quando le perline saranno un pochino così indebolite la loro fragranza le andremo a cambiare potremmo metterle nel sacchetto di organza nella biancheria magari che meraviglia non si finisce di parlare di delle cose buone e belle di questa 49 euro e 99 centesimi mai visto un gioiello lisa hoffman al a questo prezzo perciò questa è l'occasione per farvi un regalo unico se volete abbinato dalla collana io trovo che sia bellissima questa parola perché il charms proprio a quella lunghezza volendo che piomba veramente nel decolleté tre varianti e chiaramente vi arriva non solo il gioiello ma la fragranza unica con il refill per sei mesi 59 99 132 966 il codice ma abbiamo aperto il nostro show con il best seller della linea di lisa hoffman qui su hs24 italia ovvero con i bracciali con i charms ci sono tantissime gemme sono naturali quasi rosa quarsite colorata vedi questo colore quasi amazzonite azzurro poi abbiamo il nevi abbiamo l'occhio di tigre che abbiamo detto anche si 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 anche proprio è molto famoso ha delle proprietà anche di energia di regalare ottimismo che combinato quelle nostre fragranze veramente ottimizzano è sempre un'ottimizzazione di l'uno con l'altro il gioiello profumo è un concetto unico esclusivo che in italia avrete soltanto voi acquistandolo qui oggi a 44 euro 99 centesimi un gioiello con un profumo e con un refill per sei mesi con la stessa intensità la prima volta a 44 euro 99 centesimi il prezzo migliore che possiamo proporvi 1 3 2 9 6 4 il codice gli orecchini sempre amatissime tra l'altro hanno una bellissima proporzione sono il classico orecchino da portare veramente tutti i giorni se vogliamo per non farci mai dimenticare perché poi un profumo racconta e parla di noi quindi sempre con lo scrigno chiaramente segreto che nasconde questa fragranza unica che è stata realizzata da lisa hoffmann 59 99 è un prezzo speciale per la nostra coppia di orecchini 1 3 2 9 7 9 il codice abbiamo tre varianti vi piace vi è piaciuto soprattutto per ora infatti l'oro rosa per cui è quello più limitato forse state facendo anche la parour magari andate a trovare qualcuno nelle prossime sai adesso ci sono tantissimi ponti noi italiani ci spostiamo forse anche tu no si vanno a trovare le persone che magari non si riescono a vedere sempre è vero è vero è vero portiamo un regalo super esclusivo così esatto davvero guarda una 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 possibilità di unire come dire anche due regali insieme certo e guardiamo come funziona questo incredibile scrigno ecco le nostre perline le nostre perline all'interno guarda è un profumo solido queste perline tra l'altro sono vengono arrivano da foreste ecosostenibili sono fatte con farina di legno imbevute in questa fragranza al 30 per cento che lisa soltanto lisa utilizza con quest'altra percentuale e vengono inserite all'interno e poi noi molto facilmente cosa facciamo clic lo chiudiamo ed ecco l'orecchino pronta di essere indossato in tutta la sua bellezza guarda com'è ben fatta questa ball questa sfera che è intarziata e ti devo dire che non è casuale l'intarziatura non è casuale la quantità di spazi aperti e chiusi perché servono proprio a ottimizzare il rilascio della fragranza allora io vi lascio immaginare anche l'orecchino si trova con la sua sfera proprio nella posizione dove di solito mettiamo il profumo perché quando spruzziamo il profumo facciamo polsi e dietro le orecchie perciò vi ritrovate ad averlo proprio in quella zona che è quella da dove si sprigiona solitamente il profumo con la stessa intensità tra l'altro quando qualcuno si avvicina per salutarvi magari vi dà un bacio in quel momento la fragranza lo avvolge in maniera elegante secondo me ce ne dà due o tre dopo che indossiamo le orecchie esatto esatto è la volta buona che veramente prenderemo baci a non finire no? quando scostiamo i capelli o magari penso anche a chi ha i capelli corti che riesce veramente a sprigionare con questo orecchino una fragranza vi ripeto sempre io ce li ho i gioielli dell'esatto dai scusa se lo voglio fare annusare ma com'è? adoro proprio questo è il nostro agar giapponese infatti se ti dovessi dire allora scegliere è difficile iniziate con una quella che in questo momento vi rappresenta di più magari esempio cosa abbiamo nell'agar? cerchiamo di far capire qui abbiamo una come dire una fragranza frizzante energizzante, rigenerante, immaginatevi un trattamento lussuosissimo in una spa dove abbiamo queste fragranze che ci ricaricano abbiamo il bergamotto, il legno muschiato, abbiamo davvero il ginger il ginger che quindi ci dice già di un qualcosa che è energizzante che ci tira su, sai ad esempio io faccio dei lunghi viaggi anche in Australia per lavoro e di solito indosso la mia collana o il bracciale perché io ho tutte le fragranze poi anche le sostituisco l'agar mi dà questo senso di come dire calma e una nuova partenza, una recharging proprio quando ricarichi la batteria infatti al momento è la mia fragranza, è la prima che ho acquistato perciò voglia però io che le sento tutte e vi dico di averle tutte perché sono straordinarie gli orecchini che arrivano in una confezione lussuosissima l'oro rosa, attenzione amiche a casa se vi piace, è la prima variante che finirà 59,99 a fronte dei 69,99 10 euro risparmiati subito e l'opportunità di averlo tra 3-5 giorni lavorativi subito a casa vostra e poi provarlo a casa vostra 30 giorni, 1-3-2-9-7-9 il codice e anche questo bracciale in onice arriva con l'agar con l'agar diciamo è solo la prima fragranza, è solo l'inizio perché poi sostituire il profumo con i gioielli di Lisa Hoffman è semplicissimo, basta togliere le perline e mettere quelle che magari ho riacquistato 54,99 offerta lampo che parte da un prezzo, che scende da un prezzo di 69,99 1-3-2-9-7-4 il codice onice satinato, bellissimo è stupendo e anche la sfera, non vedo l'ora di parlarne perché è diversa dalle altre eh sì, l'abbiamo vista perché ogni gioiello è anche unico e lo possiamo abbinare chiaramente con la collana 76 cm di lunghezza questa è esattamente quella che sto indossando io perciò questa è la fragranza che arriva potete comunque dietro c'è l'opportunità di accorciare o stringere le maglie basta spostare 1-3-2-9-7-7 è il codice la collana c'è anche con la fragranza orchidea per cui tutti i gioielli vi arrivano con una quantità di profumo per 6 mesi che non andrà mai a spegnersi io indosso la mia collana al mattino e sento che spingiona tutta la sua intensità nelle nostre infinite giornate alle 5 del pomeriggio l'intensità è sempre la stessa 1-3-2-9-6-6 è il codice ma abbiamo aperto lo show con il nostro brasseller ovvero il bracciale fatto di pietre naturali con il charms che nasconde chiaramente, che è uno scrigno che nasconde questa fragranza unica e esclusiva che parla di noi, parla della nostra emozione in quel momento prezzo migliore di sempre per 44,99 euro per una donna appassionale per una donna che è femminile allo stato puro 1-3-2-9-6-4 il codice grazie Francesca Randazzo per essere stata con noi grazie a voi un minuto di consigli e poi torno con la bellezza The Perfect Cosmetics vi aspetto Grazie a tutti